Due minuti alla mezzanotte e nonostante la grande abbuffata c'è gente che ha ancora fame Assalto al buffet ed ecco che arriva la signora Mimba Un minuto e dieci secondi e va su Youtube 57 secondi 5 minuti alla mezzanotte Chi vuoi essere stato artiti Un minuto Ragazzi ora senti l'unio Un minuto Ma come siamo Tutti 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 su Come siamo Quando manca 20 secondi 29 Vai 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 26 25 24 23 22 21 20 19 10 17 16 20 20 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 21 23 22 23 23 22 24 21 22 22 22 23 23 23 24 23 24 25 25 26 26 26 26 27 28 28 29 23 22 23 24 29 30 22 23 25 23 25 25 25 25 26 26 27 Impresa diretta By Ross Youtube Con tutto questo ben di Dio Che rimarrà sul tavolo Fuori di testa la signora Mim Buon 2012 a tutti Da By Ross per un 2012 fenomenale Dal transatlantico E tutto Con questo bel bacio E con Mimmo Arena Aguri Mimmo Aguri di Mimmo Arena A tutti voi Al prossimo servizio E da bucciare Scalabasso a Riva Un saluto